... che è più grossa e ci si mette... perché non ci stai entrare lì, eh? Stiamo a prendere una di legno io, eh? ... di legno da albergo. No, ma così è già diverso. No, ma lo prendiamo di legno da albergo. Ma ci sono, eh, signori. E come la vuoi, piccola? Non è il mio problema nelle sedie, vieni. No, 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 no. Anche parte un'altra piccola...